Una situazione fatta di luci e ombre, quella che sta attraversando l'ecosistema urbano abruzzese. Rispetto allo scorso anno salgono Chieti e Pescara mentre fanno un passo indietro Teramo e L'Aquila. E quanto emerso da Ecosistema Urbano 2023, il report di Lega Ambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali di 105 comuni capoluogo. Il report si basa su 19 indicatori distribuite in sei aree tematiche, aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. Effettivamente quindi alla 51esima posizione della classifica troviamo Chieti, alla 57esima Teramo, in 75esima posizione Pescara e in coda in 85esima posizione L'Aquila. Pescara tra i nostri capoluoghi risulta quello più verde quindi con la percentuale più alta di alberi per ogni 100 abitanti. L'inquinamento è il tallone d'Achille quindi in particolare più che altro di Teramo, però bisogna anche distinguere tra i dati accertati e quelli non comunicati perché anche quelli purtroppo incidono negativamente sulla classifica non permettendo una corretta valutazione. I nuovi dati fanno riferimento per intero al periodo post-pandemico in risalita alle percentuali di inquinamento e di quei fattori che lo determinano. Possiamo dire che sono al netto del post-pandemia anche quelle che erano state le positività acquisite con la pandemia, quindi ad esempio la discesa dei livelli di inquinamento e possiamo dire che in controtendenza invece non sono ancora riaumentati ad esempio l'uso dei mezzi pubblici e continuano le immatricolazioni delle auto private. È acclarato ormai il cambiamento climatico in atto, la grande maggioranza della nostra popolazione vive nelle città e le città quindi sono chiamate a dare una risposta forte in questa direzione. Parliamo di raccolta differenziata, parliamo di efficientamento energetico, parliamo di mobilità sostenibile, ma parliamo anche di stili di vita che ci portano a un'intermodalità diversa all'utilizzo della bici, al cambiamento di regole come il limite dei 30 km nelle aree urbane per facilitare e mettere in sicurezza chi sceglie di muoversi in modo più lento e sostenibile.